Ho visto la mia città mal governata, ho visto tante cose in giro che non mi sono piaciute e ho visto anche tanta gente, troppa gente, che è quasi addormentata, quasi passiva, quasi neanche contenta, ma comunque così, che si è adattata a poter vivere in questo modo, in sordina, diciamo, senza poter veramente valorizzare quello che la nostra città può dare. Ecco, quindi io credo che una persona come Pier Giorgio, che anche oggi ha detto questa bellissima parola prima c'è Cagliari, sia una persona giusta, accompagnata da un buon pool di consiglieri, per cercare di dare veramente una marcia in più a questa città, che non deve più vivere in sordina, ma deve riuscire a realizzare tutti i progetti di cui è in grado, naturalmente, per la sua posizione geografica, anche di poter realizzare. Grazie.